Tante novità e attività nelle ultime settimane in casa Emi Basket Gubbio, reduce da un esaltante campionato di serie di vinto proprio nell'anno del cinquantennale della società eugubina, partiamo dal nuovo allenatore della prima squadra, ovvero il 36enne fabrianese Lorenzo Cecchini, che seppur giovanissimo vantaggia oltre tre lustri di carriera tra Fabriano, Tolentino e Civitavecchia. Ed ora l'avvento sotto i cinque colli con la volontà di mettere in atto una palla canestro piacevole che possa portare più gente possibile alla polivalente. L'ambizione poi della società Basket Gubbio con quello che mi ha portato un po' a rimanere in zona ha fatto sì che la cosa quagliasse in maniera abbastanza agevole e facile, quindi direi un posto giusto al momento giusto, una comunione di intenti mi viene da dire che si sono abbastanza agevolmente verificati. Tra le altre cose, oltre a allenare la Serie D, la società mi ha prospettato anche una gestione tecnica per quanto riguarda la parte giovanile e come parlavo più volte con i dirigenti, poi soprattutto a questi livelli, ma anche a livelli più alti, il core locale che parte dal settore giovanile è il vero motore che ti spinge ad andare avanti negli anni. Quindi lì ci sarà bisogno di fare un buon lavoro, non solo di quantità ma anche di qualità. Le mie squadre sono abbastanza utili, in senso che mi piace costruire squadre che riescono ad andare a un ritmo più veloce rispetto alle squadre di vecchi marpioni, ma che allo stesso tempo riescono ad avere quell'esperienza tale per poter giocare una partita anche controllata quando poi va a incontrare squadre di giovanotti. Un credo specifico specifico non ce l'ho, sicuramente quello su cui punto di più è la malleabilità di poter affrontare la partita e essere pronto a cercare di non subire nessun avversario, ma poter dare il filo a torcere a tutti quanti. Io sono i Fabriano, ci sono stati qui i giocatori di Fabriano, comunque mi parlavano anche di Palazzetto Gremito, di anche 600 spettatori a vedere una partita e questo non capita sempre e non capita neanche a livelli superiori, quindi l'obiettivo sarà quello di mantenere, non ti dico sempre questi numeri, ma di invogliare sempre più gente a venire al Palazzetto a seguirci. Questo nel solco di una continuità legata soprattutto allo sviluppo del settore giovanile, che la società di Via Alcuino da York sta portando avanti da anni, sempre con l'ambizione di competere per recitare un ruolo da protagonista. Sicuramente l'ufficializzazione del nuovo coach di Lorenzo era quella che attendevamo di più, perché siamo convinti che è dal coach che può partire tutto il nostro movimento, perché con Lorenzo dobbiamo reimpostare, continuare il lavoro già avviato e migliorarsi, sia dal discorso di prima squadra, sia per tutto il settore giovanile. E Lorenzo, dalla prima volta che l'abbiamo conosciuto, ci ha dato la sensazione di essere oltre un giovane, con esperienza, con talento, con tanta voglia di far bene e con la freschezza e la naturalezza di una persona che può sposare in pieno l'attitudine del basket cubio. Noi siamo sempre ambiziosi di crescere, a volte non sempre l'ambizione collina con l'obiettivo finale, ossia fare il salto di categoria. Il salto di categoria lo stiamo facendo ogni anno da quando siamo entrati. Il basket cubio sta migliorando notevolmente ogni anno, sia nel settore mini basket, sia nel settore giovanile, ma più che altro per come si stiamo impostando come struttura societaria. I passaggi e la crescita di una società passano anche da questo, ed è importante a prescindere dal risultato sportivo finale. Come sempre è un progetto che, come ha detto anche il coach, parte dalle fondamenta. Quindi questa nostra collaborazione ha l'obiettivo di far sì che tutti i ragazzi che partecipano alla nostra attività tecnica trovino uno sbocco naturale, diciamo, in prima squadra. Adesso chi ci riuscirà, chi non ci riuscirà, sarà il campo a dirlo. Però l'unione tra prima squadra e settore giovanile deve essere quello stimolo per i ragazzi per vedere vicino l'obiettivo finale, che poi è quello che li spinge a migliorarsi, ad allenarsi e a dare sempre il massimo nel campo. Non dimenticando poi la cosa a cui teniamo molto, che è il senso di appartenenza a questa società, che secondo me deve essere il must, diciamo, la cosa principale che fa riconoscere un giocatore del basket e gubbio un po' in giro per l'Umbria e per dove andremo a giocare. Con Lorenzo arriva sicuramente tanta esperienza. L'età, la giovane età che prima hai menzionato anche tu, sicuramente fa di lui una persona che potrà dare quell'entusiasmo, che per carità c'è sempre stato un ulteriore passo avanti, da un punto di vista proprio di entusiasmo e sicuramente dal punto di vista tecnico ci darà quel qualcosa in più che serve per crescere, per continuare a crescere come abbiamo fatto negli ultimi anni. E sono stati 56 i partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia che hanno partecipato a gubbio tra polivalente e commerciale al corso allenatore promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro che ha la finalità di formare i tecnici del domani guidati dal direttore del corso Claudio Cappelli e coordinati dal funzionario federale Fabio Calimberti. Io sono molto contento, anzi ringrazio anche la società del Gubbio Basket che ci ha ospitato anche quest'anno in questi impianti molto belli, funzionali, sia questa palestra sia dove siamo nella più piccola a fare altri lavori. È stato un piacere tornare a Gubbio perché l'anno scorso ci siamo tornati molto bene e quindi la federazione ha pensato che quest'anno di farci tornare con molto piacere. Questo è il penultimo step, poi c'era il corso dell'allenatore nazionale ma quella è una cosa già più a livelli alti e chiaro è una soddisfazione perché arrivano che sono tutti un po' impauriti, un po' timidi e poi vedi al secondo anno che sono già più spigliati, lavorano bene, hanno più esperienza e per cui anche per noi come CNA è una soddisfazione. Il bello di questa formazione è che è una formazione a 360 gradi, quindi non si valuta solo la questione tecnico-tattica che è poi il ruolo principale dell'allenatore, ma si vanno a scandaliare anche tutti gli altri fattori che possono essere dalla metodologia, dalla psicologia, dalla comunicazione e dalla conoscenza del regolamento tecnico. Quindi questi ragazzi fanno 15 giorni dove comunque la loro crescita è esponenziale perché imparano a lavorare in un momento stressante, perché comunque anche fisicamente per loro è stressante sono sottoposti a vari cicli di tirocini, cioè delle vere e proprie dimostrazioni pratiche di quello che loro stanno imparando, in una situazione senz'altro di collaborazione tra di loro ma molto probante da un punto di vista di mettersi in discussione e cercare di capire quello che si sta facendo e dove si vuole arrivare. Ringrazio anche io le istituzioni, il basket Gubbio, io poi ho anche un mezzo parente a Gubbio quindi non dico che giochi in casa ma quasi, quindi è sempre molto bello perché certamente lavorare in un contesto del genere sia da un punto di vista di strutture che da un punto di vista scenografico rende tutto un attimino più semplice e più piacevole. In mezzo a tale attività c'è stata la consegna alla società Bianco Blu della Stella di Bronzocconi al merito sportivo, occasione che ha visto riuniti nella sala consigliare del municipio Eugubino una delegazione generazionale di giocatori, dirigenti e allenatori che hanno segnato in maniera indelebile una storia nata nel 1973 e più che mai fulgida e viva al giorno d'oggi con consegna effettuata dal presidente Coni regionale Domenico Ignozza. Credo che la cosa più bella non sia stata quella di consegnare l'onorificenza a Gubbio ma di consegnarla realmente a chi la storia del basket Gubbio l'ha fatto perché ho letto negli occhi di ognuno di loro, soprattutto dei più anziani quello che è l'orgoglio di ricevere un riconoscimento così importante da parte del Comitato Olimpico Nazionale è la storia dello sport, lo sport nasce sul territorio ed è giusto che il territorio venga premiato Vincenzo siamo andati insieme, eravamo cugini, siamo stati i primi acquisti del basket Gubbio perché il basket Gubbio era nato tramite Caldarelli, Moretti, Lele Fiorucci i primi acquisti che hanno fatto erano due che stavano in campagna vicino al Teatro Romano quelle volte era campagna a campagna è una cosa che è stata creata, alti e bassi, però non si è mai interrotta c'è sempre stato il gusto di piacere lo sport della pallacanestro fortunatamente ci sono state negli anni gente che si è inserita e ha portato avanti questo lavoro e ancora speriamo che vada avanti per altri 50 anni anche perché io voglio essere qui a prendere quella donna All'inizio della nostra storia è arrivata una medaglia per la continuità dell'attività perché noi giocavamo e basta e ringraziando chi l'ha prolungata negli anni e quindi il merito non è più il nostro ma è di chi l'ha continuata perché il piacere è stato questo una creazione che non è morta come tutte le altre esperienze che avevamo avuto prima delle nostre ricevere un premio così nell'anno del 50esimo dopo la stagione che c'è stata sicuramente è il coronamento del grande lavoro che viene fatto che è stato fatto in questi anni a cui devo solo ringraziare tutte le persone che mi hanno cresciuto è una famiglia, un ambiente sano e va solo detto grazie a tutti quelli che in questi anni ci mettono passione, tempo e impegno per permettere a ragazzi come me che sono entrati i bambini in palestra uscire e diventare adulti perché è veramente un grande lavoro che fanno per la comunità uscire e diventare adulti